Musica Domani mi aspetto prima di tutto di divertirmi e poi di fare la prestazione migliore che posso arrivo purtroppo da un infortunio e mi sono fratturata allo scafoide fortunatamente lievemente quindi sono stata ferma poco ho appena ripreso da una settimana andare in moto ma questo non mi fermerà perché poi io quando entro in pista e metto il casco basta un altro mondo non ho più niente mi passa tutto Musica Io ho iniziato a fare le gare a 20 anni il motard mi è sempre piaciuta la moto ci vado da quando ho più o meno 12 anni poi però a 18 anni ho comprato il primo motard un 125 e poi grazie a Riccardo Tagliabue che adesso è l'organizzatore appunto di campionato italiano lui mi ha visto un giorno girare e ha creduto in me ma ha detto guarda io ti trovo una moto per fare la stagione e così come un gioco è iniziata e adesso è dal 2004 che corro quindi questo è il mio decimo anno e niente ho vinto ho vinto dei campionati femminili regionali e avevo vinto anche un altro campionato che si chiama Italian Trophy molto bello anche lì ci sono un sacco di ragazze proprio bello e niente poi quando posso vengo a fare qualche gara dell'italiano perché lì l'adrenalina è il massimo però è tosta eh vi presento la mia moto Uga era strano vederci in pista e quando comunque ho iniziato magari andare un pochino più forte a far le gare e mettere dietro qualche maschietto insomma mi ha dato un po' fatica facevo un po' da birillo in pista all'inizio poi però pian piano ci siamo guadagnate anche noi la nostra posizione e insomma adesso ci rispettano siamo molti di più sarebbe bello fare un campionato tutto femminile ma purtroppo non siamo ancora riuscite però è divertente io mi diverto di più a correre insieme ai maschi rispetto a correre solo con le donne ma perché secondo me c'è sempre da imparare a correre con loro insomma e poi è più divertente mettere dietro il ragazzo qui siamo veramente donne anche in pista e quella mi ha fatto pelle, quella ha fatto pelle perché quella è entrata così cioè tranne che c'è un'altra ragazza che adesso va qua a fare motocross che anche lei va forte però guarda un po' laminata noi ragazze nonostante comunque corriamo e facciamo uno sport prettamente maschile cerchiamo di mantenere la nostra femminilità infatti come potete vedere ho una moto completamente rosa con una sella particolare poi ho anche lo smalto quindi cerchiamo dentro e fuori adesso per ridere di mantenere appunto la nostra femminilità e niente diciamo che essere una donna in un mondo così all'inizio mi ha aiutato molto magari per ho avuto degli sponsor che comunque mi hanno aiutato all'inizio di carriera e che mi seguono tuttora dopo dieci anni come la Ebo che insomma è uno sponsor a cui io sono molto affezionata e veramente sono dieci anni che crede in me e mi dà una mano come può appena può poi corro da un sacco di anni per il Mad Bat Racing Team al tempo avevamo formato il primo team femminile di motard e questa è stata davvero una rivoluzione avevamo formato un gruppo di supermoto girls si chiama dove tutte le ragazze che partecipano insomma che fanno motard ci eravamo unite e adesso si è evoluto con MX Girl dove principalmente è un gruppo di motocrossiste però diciamo che accolgono tutte le ragazze il mondo a due ruote quando mi dicono che sport fai io dico supermotard e poi devo spiegare che cos'è quindi mi piacerebbe in primo luogo che davvero diventasse una disciplina veramente importante in Italia perché comunque abbiamo dei piloti incredibili anche al mondiale sono i piloti italiani che a parte un paio di piloti stranieri le altre comunque che fanno la differenza nel mondiale sono tutti italiani e quindi mi piacerebbe che l'Italia non fosse solo calcio poi adesso grazie a Tonica e Roli vabbè il moto mondiale è un mondo a parte un po' le persone comuni si stanno avvicinando al mondo del motocross e spero che il passo successivo sia quello finalmente di conoscere esattamente che cos'è il motocrossiste questo è Mucchino me l'ha regalato il mio papà e viene con me da dieci anni in tutte le mie moto lui è sempre presente come potete vedere è abbastanza conciato perché di voli ne ha fatti l'ho perso in diverse piste ma sono sempre riuscita a ritrovarlo è un po' il mio portafortuna bello poi qua a Ottobiano diciamo che è la mia pista preferita anche perché ha un impianto del genere io non l'ho mai visto non esiste secondo me qua in Europa secondo me è il migliore c'è una parte asfaltata che è incredibile uno sterrato che è veramente spettacolare siamo ritornati finalmente a far vedere cos'è il motard grazie a questo sterrato e poi c'è un impianto un bar o un ristorante cioè tutto incredibile in questa pista è una magia proprio bello grazie a tutti